Dal 13 marzo al 27 marzo, la rossa da Rossini, abbiamo voluto giocare su questa alliterazione, Milva Icona di stile per un'arte che cura, è la mostra che domenica 13 marzo alle 17 si inaugurerà al Museo Nazionale Rossini. Le parole del direttore dell'AMAT Gilberto Santini nella videoconferenza tenutasi questa mattina alzano il sipario su una mostra unica del suo genere. A quasi un anno dalla scomparsa di Milva, la folgorante carriera di un artista icona della musica e del teatro italiano rivive nei suoi abiti di scena messa in mostra al Museo Nazionale Rossini. 31 oggetti di scena che sono stati parte integrante dei messaggi interpretativi di Milva realizzati da importanti stilisti come Ferré, Versace o Armani. Dopo la parziale anteprima durante il Festival di Sanremo, la mostra verrà inaugurata il 13 marzo alle 17 a Pesaro dove sarà fino al 27 marzo per poi concludere il suo percorso al Teatro Parenti di Milano dove gli abiti saranno offerti all'asta da Cristis Italia. Quindi la volontà di creare contaminazioni, creare uno scambio anche da questo punto di vista era già nell'indola del museo, potremmo fare con una figura tra le più iconiche della musica italiana come Milo, quindi una donna, poi specialmente in questa settimana insomma che origina dal 8 marzo ci fa molto piacere e penso che sarà un bellissimo divertimento per i visitatori muoversi tra le sale dove quasi in un contrapunto ci saranno gli abiti di Milva e alcuni abiti che hanno fatto anche la storia del Roscinforo Festival. Al fianco di Daniele Vimini anche l'applauso alla mostra dell'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini in visita a Pesaro. Sono veramente contenta che iniziamo ad aprire delle stagioni importanti di inaugurazione di mostre proprio per far vedere anche l'attivismo dei luoghi della cultura perché la nostra regione devo dire che è molto molto attiva abbiamo ben due capitali che sono state selezionate tra le prime dieci come capitali della cultura a Pesaro e ad Ascoli e quindi devo dire che in termini culturali insomma ci facciamo valere come territorio, come regione. La mostra nasce grazie alla volontà e alla generosità della professoressa Martina Corgnati, figlia dell'artista. Io ho dunque pensato che questi oggetti, che questa memoria, che queste testimonianze non fossero mie nel senso della proprietà privata, ma che fossero di tutti, che fossero di chi le ama, di chi può farne buon uso e che gli stessi oggetti avessero in un certo senso diritto a una seconda vita. Oltre a mia madre è una persona anche, chi l'ha conosciuta fra le persone collegate qui lo sanno, molto riservata in un certo senso. Aveva vissuto una vita pubblica ma nel suo privato ammetteva pochissime presenze e quindi in realtà queste cose non sono state viste, non sono state condivise. Io penso che ci sia un bisogno di sguardo anche su questi oggetti perché questi oggetti possano dare ancora alle generazioni che verranno. Con il ricavato dell'asta che seguirà la mostra si attiverà una rete di luoghi di cura per il miglioramento della qualità della vita di pazienti fragili attraverso il lavoro dell'associazione No Profit Qualia della professoressa Gabriella Bottini e di Medicinema Italia di Fulvia Salvi. Domenica alle 19 l'inaugurazione della mostra sarà seguita dall'omaggio di Giovanni Amodeo che alla chiesa della Maddalena proporrà il recital Io e la Rossa.